In questo tutorial vedremo come installare MySQL, phpMyAdmin e Wordpress tramite Kubernetes Per prima cosa creiamo appunto una cartella dove andremo a creare i nostri file Yelmo e il primo file che andiamo a creare sarà appunto un Persistent Volume di MySQL Il Persistent Volume di MySQL è appunto un volume in cui è persistente quindi quando i vari pod e i vari servizi vengono distrutti esso continua ad esistere in modo che appunto non perdiamo i dati salvati nel database Quindi andiamo qui, creiamo un nuovo file, lo chiamiamo MySQL PVPersistentVolume.yml Lo salviamo Ok Poi incolliamo questo codice, tutti questi codici poi li troverete nel link in descrizione Dove appunto trovate il link al repository in cui ci sono tutti questi codici Appunto questo è un Persistent Volume Qua appunto c'è il nome del servizio che stiamo andando a creare del volume che stiamo andando a creare Qua c'è la capacità In gigabyte potete mettere 10, 5, quello che volete Io ho messo uno per non occupare troppo spazio sul disco E qua c'è il percorso appunto del volume Mentre qui sotto abbiamo appunto un Persistent Volume Claim Che è praticamente un modo per rendere pubblico il nostro volume E poterlo rendere accessibile agli altri servizi Insomma abbiamo questo tipo di configurazioni Ma in futuro le vedremo meglio Ma per ora quello che vede qua è più che sufficiente Una volta creato appunto il Persistent Volume Dobbiamo andare a creare un servizio per MySQL Quindi creiamo un file Un nuovo file chiamato Anzi no aspettate Prima di creare il servizio Andiamo a importare Il Persistent Volume in Kubernetes In modo che lo possa creare Quindi fate partire ovviamente Minikube Io qua l'ho già fatto partire Minikube start Una volta che è partito fate Kubectl Create Meno F Spazio MySQL Meno pv Punto Yelmo Fate invia Come vedete Il volume Sia il volume Che il claim Sono stati creati Per vederli Potete fare Kubectl Get Pv Persistent Volume Qua vedete Il Persistent Volume Creato 15 secondi fa Capacità Appunto 1 Giga Qua appunto Il tipo di accesso Read and write only Poi Poi Invece Se facciamo Pvc Persistent Volume Claim Appunto Andiamo a vedere Appunto Il claim Quindi In questo Abbiamo Questo qui Mentre Qui Nel pvc Abbiamo Questo Questo Ora Appunto Andiamo a creare Il secondo file Lo chiamiamo MySQL Service Quindi MySQL Service Yelmo Lo salviamo E incolliamo Questo codice Appunto Qui diciamo Il nome Del servizio Quale Tipo Di protocollo Da utilizzare La porta Su cui Deve Essere Aperto E qua Il nome Dell'applicativo E anche Questo Lo andiamo A importare Quindi Cube CTL Create Meno F MySQL Service Questo Sembra Importato Per Vederlo Dobbiamo Fare Cube CTL Get SVC Oppure Service Come volete E qui Abbiamo Appunto Il nostro MySQL Il nostro Servizio Attivo Fatto Questo Andiamo A Creare Un Appunto Il deployment Quindi Che Diciamo Il file Più corposo Quindi Creiamo Un file Chiamato MySQL Deployment Punto Yelmo Lo salviamo Rancogliamo Appunto Qua Come vedete Abbiamo Il container L'immagine Che è appunto MySQL Versione 5.7 Quella Praticamente Il docker Che verrà Creato Qua abbiamo Qua Passiamo La password Quindi Questo è il nome Della variabile All'interno Del docker E qui c'è la password Se volete possiamo cambiarla Ma io lascio password Per ora Qua In realtà Si potrebbe passare Tramite un secret file Ma lo vedremo Più avanti E qui abbiamo Appunto Il collegamento Al Al nostro volume Al nostro volume Come vedete Qua abbiamo Il nome Il Il nome del volume Che lo ritroviamo Appunto Qui MySQL PVVolume E PVClaim Li ritroviamo Appunto Qui E tramite Questo Appunto Tramite Questa Connessione Qua Abbiamo Accessso Al nostro Volume In cui Quindi MySQL Salverà I suoi Fisicamente I dati In modo Da renderli Accessibili Sempre Anche Quando I Pod Verranno Distrutti Quindi Una volta Fatto Il deployment Andiamo Ad importarlo Kube CTL Create Meno F Meno F MySQL Deployment Quindi Ora Se facciamo Kube CTL Get Deployment Get Pod Dovremo Vedere Appunto Il Pod Del nostro MySQL In fase Di creazione Ovviamente Ora sta Scaricando Il container Eccetera Quindi ci mettono Un attimo Per crearlo Una volta Fatto Questo Proveremo Ad accedere Al MySQL Tramite Appunto Linea Di comando Per vedere Che sia realmente Attivo E poi Andremo Installare PHP MyAdmin Ora il Il pod Dovrebbe essere Stato Creato Kube CTL Get Pod Is Running Quindi Ora Proviamo A Connetterci Per Dobbiamo Appunto Prendere Il nome Del pod Fare Kube CTL Exec Meno IT Il nome Del pod Slash Bin Slash Bash Poi Facciamo MySQL Come vedete Non abbiamo accesso Perché dobbiamo Fare MySQL Meno Root Meno P Ci chiede la password Che è Password E come vedete Siamo entrati Nel MySQL Ora possiamo Pure uscire Sia dal MySQL Che dal Pod Tornare Appunto Qui E andare A installare PHP MyAdmin Quindi Per installare PHP MyAdmin Dobbiamo Creare Un file Di Servizio Ma Anche no Prima possiamo Provare a creare Un Secret File Perché A differenza Di MySQL Che Per qualche Scuro motivo Non lo Prendeva Quindi ho dovuto Scrivere La password Direttamente In file Di configurazione Con PHP MyAdmin Invece possiamo Inserire La password Tramite Un file Segreto Quindi Creiamo Un file Chiamato Project Secret Punto Yelmo Lo salviamo Incoldiamo Il contenuto Adesso Questa è una password Cryptata 64 bit Perché di solito Kubernetes Puole Deve Password Cryptate Ma Noi adesso Li mettiamo Solo la password Come password Che è la stessa Che appunto Abbiamo messo Qui In MySQL Quando abbiamo Potuto usare Il secret file Perché Per qualche Scuro motivo Il docker Di MySQL Non Non l'accettava Per Chiudete un occhio Vedremo Se Trovo Una soluzione A questo Quindi adesso Abbiamo creato Il nostro Secret File Quindi andiamo Ad importare Quindi Cube CTL Get Project Secret Non me l'ha importato Andiamo a vedere Perché Project Secret Ah Perché in realtà Devo fare Create Non Get Create Meno F Project Secret Quello L'ha importato Per vederlo Possiamo fare Cube Cube CTL Get Secret E come vedete Qua abbiamo Il nostro Project Secret Facciamo Cube CTL Describe Secret E Il nome Del nostro Secret Quindi Cube CTL Describe Secret Il nome Del secret Appunto Ci dice Che abbiamo Una root Password A 6 bit Ok Fatto questo Andiamo a creare Un file Di servizio Per phpmyadmin Che appunto Chiameremo phpmyadminservice Qui appunto è come per mysql service diciamo il tipo di protocollo che vogliamo Il nome dell'app Il nome dell'app Il nome del servizio E la porta su cui deve operare Quindi andiamo a importarlo Cube e nel deployment appunto vedremo anche come richiamare appunto il secret quindi copiamo il deployment php my admin deployment php my admin slash deployment.yelmo lo salviamo ok incolliamo il codice appunto qua abbiamo il numero delle repliche se vogliamo io per ora lascio uno perchè con minicube cosi non voglio utilizzare troppa memoria sul mio computer in locale qui abbiamo appunto il nome del container l'immagine del container che è quella standard presa da dockerhub e qui abbiamo appunto il pm host che appunto di disk che deve collegarsi all'host mysql che lo prende da qui quindi da mysql service abbiamo la porta qua abbiamo appunto la root password ma che come vedete usa questo valore value from secret ref in realtà qua non è mysql password ma dobbiamo mettergli questo project secret quindi quindi qua lo sostituiamo con questo perchè appunto andiamo a prendere poi usiamo questo come riferimento quindi lo mettiamo qua e qua abbiamo appunto il nome della chiave che è root password quindi root password qua lo copiamo lo copiamo di qui ora se andiamo nel mysql deployment vedete che qua abbiamo solo il nome e il valore questo è appunto il nome della variabile che vuole la password e qua abbiamo la password fisica letteralmente scritta mentre qui gli passiamo tramite il valore from secret key reference gli andiamo a passare i dati inclusi in questo file vedete qua volendo possiamo mettere altri tipi di dati che vogliamo tenere segreti come già detto per qualche scuro motivo qua nel mysql non funziona se qualcuno di voi sa il perchè ve lo faccia sapere altrimenti appena lo scopro ve lo farò sapere e comunque questo è appunto un tutorial quindi è solo per farvi vedere le varie funzionalità di Kubernetes quindi in questo modo ne approfittiamo per vedere appunto come utilizzare i secrets quindi dopo questa lunghissima giustificazione possiamo andare appunto a caricare il deployment di phpmyadmin quindi docker create meno f phpmy non docker scusate non docker ma kubectl create meno f phpmyadmin deployment il deployment è stato creato quindi facciamo un kubectl get deployment e qui lo abbiamo quindi adesso abbiamo due deployment mysql phpmyadmin ora facciamo un get pods per vedere se il pod è già stato creato ok appunto il container in fase di creazione appena sarà pronto andremo a vedere se poi riusciamo a connetterci ok ora il pod dovrebbe essere pronto infatti è in in funzione quindi ora facciamo minikube service list e qua abbiamo appunto l'indirizzo a cui possiamo accedere a phpmyadmin possiamo partire e appunto mettiamo come password come utente root come password password e vediamo se si connette e si è connesso al nostro mysql quindi mysql phpmyadmin sono funzionanti non ci resta che installare creare la configurazione di wordpress quindi andiamo a pulire la schermata clear e andiamo a creare un persistent volume per wordpress quindi creiamo un file chiamato wordpress s-pv .yelmo che aveva appunto un persistent volume come abbiamo fatto per mysql come abbiamo fatto per mysql per il semplice motivo che in wordpress si uploadano immagini eccetera e non vogliamo non vogliamo perderle come accadrebbe senza non vogliamo perderle perché appunto senza il persistent volume tutte le volte che un pod viene distrutto ricreato senza il persistent volume perde tutti i dati immagazzinati perché il persistent volume è appunto un luogo fisico di storage che rimane stabile sempre che noi appunto non lo andiamo a distruggere quindi andiamo a creare appunto il persistent volume che praticamente è identico a quello che abbiamo fatto per mysql quindi cambiamo solo il nome come vedete abbiamo appunto un persistent volume e un persistent volume claim appunto abbiamo chiamato persistent eh wordpress pv claim e wordpress pv volume anche qua gli ho dato solo un giga ma potete dargliene quanto volete potete poi gli mettiamo un percorso fisico che è appunto var www html perché in html ci saranno poi i file fisici di wordpress template deve avere la cartella vp content eccetera eccetera insomma quindi lo salviamo e lo andiamo a importare kubectl create meno f wordpress pv yelmo quindi ora facciamo kubectl get pv e dovremmo vedere appunto due instance due volumi uno per mysql e uno per wordpress entrambi da un giga e ora facciamo pvc per andare a vedere il claim anche qui ne abbiamo due uno per mysql e uno per wordpress fatto questo andiamo a creare un un file di servizio appunto per rendere pubblico il nostro wordpress per renderlo accessibile quindi creiamo un file chiamato wordpress meno service sempre appunto yelmo quindi 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 andiamo qua new file wordpress meno service abbiamo detto punto yelmo salviamo incolliamo anche qui lo spegniamo sul porto 80 tipo load balancer salviamo andiamo a importarlo quindi kubectl wordpress service yelmo quindi di nuovo kubectl get svc anche qui dovremmo averne tre adesso uno per phpmy service uno per phpmy admin uno per mysql e uno per wordpress fatto questo non ci resta che importare il deployment quindi ci copiamo questo dal mio repository creiamo un file chiamato wordpress meno deployment punto yelmo meno wordpress meno deployment punto yelmo lo incolliamo qua abbiamo appunto sempre la nostra immagine del container qua invece dobbiamo mettere appunto il secret che si chiama project secret e la chiave è root password quindi quindi php deployment project secret ok questo ce l'abbiamo già questo è php siamo su wordpress deployment chiudiamo un po' di cartelle che non ci servono service wordpress deployment allora qua quindi quali passiamo appunto il nome del project secret e quali dobbiamo passare la chiave che abbiamo detto che era che era che erano già dimenticata root password ok quindi dovremmo avere tutto wordpress dbhost appunto mysql qua appunto abbiamo la connessione al nostro storage quindi dovremmo avere tutto quindi non ci resta che fare kubectl create menu f wordpress deployment ok l'ho importato quindi kubectl get deployment ecco e li abbiamo tutti attrattivi mysql phpmyadmin wordpress ovviamente wordpress non è ancora disponibile perchè sta ancora scaricando il docker perchè si infatti facciamo get pods appunto il container in fase di creazione quindi aspettiamo che lo crei e poi andiamo a vedere se eh lo vediamo nel browser ora il il container del wordpress dovrebbe essere installato ma ci da errore andiamo a vedere no ci da running ma se andiamo a connetterci prima non andava andiamo a vedere se ora va ok ok non va andiamo a vedere perchè non va per farlo dobbiamo la vedere allora dobbiamo prima ottenere il nome del pod e poi andare a vedere perchè non va infatti ora ci da crash look back off quindi facciamo get no facciamo question logs wordpress e vediamo che l'errore che ci da è che la password non è valida questo secondo me perchè non è a 64 bit quindi noi dobbiamo convertire la nostra password a 74 bit e per farlo dobbiamo lanciare questo comando e c'è meno n la nostra password e base 64 quindi otteniamo questa la copiamo andiamo nel nostro file secret project secret la incolliamo quindi dobbiamo andare a cancellare e ricaricare il file secret quindi cubectl delete meno f project secret poi andiamo a cancellare anche il nostro deployment e poi lo ricarichiamo quindi carichiamo il nostro wordpress deployment ora ricarichiamo il secret ricarichiamo il deployment di wordpress wordpress deployment ok ora sembra andare quindi facciamo di nuovo minicube service list invio andiamo a vedere se stavolta parte ci connettiamo e sembra andare quindi creiamo il sito test un utente un utente admin come password mettiamo password1234 permette ammettiamo l'email installa wordpress incrociamo le dita vediamo se va ok ok wordpress è stato installato ci loghiamo facciamo admin entriamo e wordpress è funzionante quindi direi che abbiamo risolto il problema che era appunto dato dal fatto che la password non era codificata in base 64 quindi ricordatevi questo comando echo meno n password base 64 e la inserite qua nel project secret andiamo a vedere se phpmyadmin continua ad andare e e tecnicamente poi all'interno dovremmo vedere un database chiamato wordpress infatti lo abbiamo qui quindi direi che il tutorial può finire qui per adesso nei prossimi tutorial vedremo di entrare più nel dettaglio di certi passaggi vedremo anche di risolvere il misterioso problema del password del secret che non preso dal mysql se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace in descrizione trovate il link a tutto il repository con i vari codici i vari file che abbiamo creato e niente ci vediamo al prossimo tutorial vediamo